Sto facendo un discorso. Mamma, mamma no. Mamma, mamma, mamma mi è ancora. Mamma, mamma mi è ancora. E ancora, amore? Mamma, mi è utile. Aspetta. Ma no, è mia, è mio. È mia mamma. Tu no. Ma mamma è prima. È piena, è la sua mamma. Chi è la mamma del papà? Come si chiama? Mia. Nonno Tati. Sì, ma mi sa che qualcuno ti ha suggerito, eh. E il papà del papà chi è? Nonno Tato. Nonno Tato? Nonno Baldo è sbagliato per l'altro. Nonno Tato non esiste. È zio Tato o nonno Baldo? Nonno Baldo. Nonno Baldo. È zio Tato chi è? Lasciamo finire. Chi è lo zio Tato? Mamma, quello delle bambine. Quello delle bambine. Come si chiamano le bambine? Calaccia carina. Ma sei Monella, sei quasi brava. Bella. Brava. Bambina calotta. Ma. Bella. Birika. Birika. Mamma, guarda male. Birika. Monella birika. Ve ne piccò? Mamma, ti mette seduta. Mamma, non quella di mamma. Papà no, quella di mamma. Adesso mi sposto allora. Birika. C'è una labbra. C'è una labbra. Poi le bambine. Papà. A piedi. Cosa? Alla labbra. Viola, prova a fare come fa Nemo quando mangia. E il pony grigio cosa faceva? Così. Papà. E papà. E lui cosa fa? Oh, che bello. Adesso lo fa anche Mami? Lui. E poi? Iiii. Prrrr. Ah. I. Come? I. Aspetta, papà faceva così. E poi pony? Prova, batti. Prova te. Sì. Come, Viola? No, Mami. Viola, dai prima di domani.